Musica Salve amici appassionati di Football Manager Qui come sempre c'è Mike94 e ovviamente Football Manager Italia Siamo qui credo con l'ultima puntata di Tour de Force Con lo Spezia Quindi sarà un mega puntatone davvero abnorme Quindi preparatevi che ne so bibili e popcorn E credo che dureranno almeno un'oretta Visto che il 24 No farò uscire questo video il 24 Proprio il giorno in cui in teoria dovrebbe uscire la beta di FM15 Il 23 invece farò un altro video Proprio parleremo un po' di quello che andremo a fare Vi chiederò anche alcune cose Ma in teoria quando state vedendo questo video Già avrete visto il video di ieri insomma E poi spero che entro lunedì Quindi entro il 27 La beta mi sia arrivata e quindi Posso iniziare a fare video con il 15 Spero che sia così Se no non lo so che andremo a fare O vi darò un pelino più di tempo per vedervi questi video Oppure più semplicemente Faremo un video sulla presentazione Sulle novità di FM15 Su quello che ho potuto ovviamente leggere sui forum Io però spero che Entro questa settimana mi arrivi Sto registrando prima ovviamente il 24 Quindi in teoria non può essere Oppure che proprio mentre sto pubblicando questo video Mi sia già arrivata la beta Lo spero E non mi dilungo di più Allora oggi ci andremo a vedere Il finale di campionato E staremo un po' con le lacrime agli occhi A parte gli scherzi Mi dispiace tanto Lasciare questa squadra Una squadra veramente fantastica Un percorso assurdo fatto in poco tempo In circa due anni Questo metà anno Del secondo anno lo stiamo facendo Veramente in quattro giorni Io in due E niente Una squadra fortissima Due campionati Uno più bello dell'altro Quello della Serie B Con nemmeno una sconfitta Nelle gare ufficiali Con la vittoria della Coppa Italia Solo il Napoli Insieme a noi ovviamente Riuscita dalla Serie B A vincere la Coppa Italia Non vorrei dire scemenze Ma io credo che sia così E qui in Serie A Per il momento siamo primi Ripeto Mi è stato detto Che non è realistico Però non ci posso fare nulla Non c'è una vera concorrente Io già Con un campionato Forse già lo dissi Che col Milan Vinzi Ho scudetto Con solo i 78 punti Quindi Non ci posso fare nulla Se non c'è una vera E propria concorrente Non c'è una vera e propria Juventus Del calcio reale Infatti A Juventus Ha solo i 51 punti Vabbè Io ripeto Nel caso di vittoria Dallo scudetto Staremo qui A festeggiare Nel caso di un secondo Terzo posto Festeggeremo lo stesso Perché Il mio diciamo Obiettivo massimo Proprio Fino al massimo Massimo È stato comunque Riaggiunto Un quarto e quinto posto Comunque Già sarebbe Comunque Già l'ho detto Comunque Un'impresa Per una squadra Neopromossa Anche se La vedo dura Perché In Europa League Già siamo Qualificati E dalla sesta Ci sono ben 38 38 punti No Varei di scemenze 28 punti Di stacco Ecco E Niente Andiamo La Formations Contro il Lille Sarà questa Siamo un po' In emergenza Con le ali Infatti A Fellai E Bagua Sono squalificati In Nel In Europa League Non possiamo Non abbiamo convocato Kiko E ci sono Depay Quaresma E poi In caso proprio Di emergenza Massima Ci sta Mazzotti E Madonna Che possono giocare Proprio all'ultimo Come ali O anche se Il buon Seppellini Insomma Comunque Gomez Smith Borghese Scusate Maximo Zappacosta Vau Gamere Bovo Sì Bovo Anche perché Bado è squalificato Depay Quaresma Rescaldani Diciamo Sarà un piccolo Live Fra virgolette Non credo che ci vedremo Proprio tutte le partite Insieme Ma la maggior parte Quindi andiamo a bomba Contro il Lille Vediamo anche come si schiera Fra Non è una squadra Da sottovalutare Ovviamente Però rispetto a squadre Come che ne so Il Chelsea O la stessa Inter Diciamo che È un pochino Meno forte Anche se vediamo Che si Presenta con Romero Che credo sia Quello della Sampdoria Revelier Ex Napoli Baza So Mauro Sidibe Mavuba Ottimo Centrocampista Diciamo Lille L'ex squadra Di Rudy Grazia Samaras Scapue E Coco Oppure questo Non è male E Calu Ex Chelsea Non vorrei discemente male Lui è l'ex Chelsea Sì esattamente Un attaccante Da non sottovalutare Veramente Veramente Ottimo Levelier Sì è lui Quello ex Napoli Anche se qui nel gioco Siamo ancora con il database vecchio E quindi Non è andato a Napoli Detto questo Ci danno per favoriti Ovviamente Fa Piacere E la semifinale In caso di vittoria Facciamo un po' di scongiuti Sarà Fra la vincente Fra Stey Remy E L'Inter Io spero che Nel caso Noi passiamo Non passi l'Inter Più che altro Perché ovviamente Sebbene una partita Davvero tosta Però Noi Ripeto Abbiamo battuto Squadre più forti E Niente Giochiamocela E andiamo Ma Puba Si di B Ok Subito Giochiamo la prima in casa E Diciamo che La prima Già l'ho detto È una partita In cui ci si studia Di più La seconda È È la più Forse importante Però Noi siamo capaci Anche di affilare La nostra lama In terra straniera Infatti In Inghilterra Contro Newcastle Siamo andati a vincere 1-0 Non dominando Ovviamente Però Facendo una Dignosa partita Subito Depay Sulla sinistra Cross al centro Quaresma 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 che Oltre che Ritornare in una squadra italiana È anche ritornato al goal Proprio contro la Fiorentina E Coco E Coco E Gomez Non so come è la parata Con la telecinesi C'è un piccolo lag Ma questo è sempre all'inizio Ancora 0-0 Un risultato che diciamo Ci può stare Se poi Andremo con il sangue agli occhi In Francia Ok Forse Non giochiamo più Tanti indietro Anche se lì Ripeto Non è squadra scarsa Gioca anche lei Col 4-3-3 Il mio amato 4-3-3 Quest'anno Credo che C'è stato il modulo Che più ho consigliato Però Io mi trovo Mi ci trovo Bene E guardate lo special Che sta facendo Con questo modulo Ancora 0-0 Mi ho 4-3 Un po' più di contenimento Ma credo che L'abbiate capito E' molto difensivo Poco possesso palla Tanto Contropiede Veramente Fondato Sul contropiede E Vabbè Poi Abbiamo giocatori di qualità Che ovviamente Segnano anche Senza contropiede Con Belle azioni Betiti Betripling Insomma E Ok C'è qui Lille che attacca Con Martin Martin Contadera E Coco E Coco E Coco E Coco Bravo Gomez Bravo Gomez Già stavo iniziando A disperare E Qua Quaresma Già stanco Pure Resca Si è Fatto male Allora Due cambi Sono indeciso Di mettere Seppia O Mazzotta 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 Diamogli Fiducia No Ok Smith non può giocare Allora mettiamo Mazzotta Come ala E speriamo Bene Ancora Zero A zero E tra Buon Jonatas Entra pure Mazzotta In un ruolo Inedito Depay 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 Cross al centro C'è Jonatas Non la prende Strano Da lì è sempre Pericoloso Però c'è Bo Indietro Per Depay Menfin Depay 1 a zero Contro il Lille Risultato che Comunque È utilissimo Speriamo però Adesso di non fare Cappellate Ci porta Con un punticino In più Insomma In Francia Però Non dobbiamo Esultare Ancora Perché c'è Ci sono ancora 93 No 91 minuti Mazzotta In un ruolo Inedito Raul Mereles Finisce qui la partita 1 a 0 Col di Menfin Depay Ben fatto Insomma Che gli possiamo Dire Sti ragazzi Che vincono Una mai Sempre Nonostante Guardate qui Tiri 26 11 Importano I tiri 6 E 2 Solamente Importa Però Questo è il Bello E lo Sterremi Vince Contro l'Inter Speriamo che Vadano Per il pareggio A San Siro Lo so che uno Dovrebbe Di fare Per le squadre Italiane Oddio No Vabbè Ci vediamo Direttamente Contro Il Catania A fra poco Fatta La formation Veramente Siamo un po' In crisi Sulle ali Però Per fortuna Qui possiamo Schierare Buon Checo E vabbè Gioca Gomez Mazzotta Borghese Maximo Zappacosta Badu Sapara Lollo Depay Checo Jonatas Diciamo che Siamo un po' In crisi Cioè no in crisi Facciamo scongiuri Ma In emergenza Visto che abbiamo In 5 giorni Anzi in 6 Catania Lille Juventus E le uniche Ali che abbiamo Sono Depay Checo E Quaresma Forse un pelino Mi pento Di aver Ah no anche Pedersen Anche Pedersen Giusto Però un po' Mi pento di aver Mandato Vianza Loni Però non mi potevo Aspettare Diciamo questa Questa Moria Di Di ali Comunque Vediamo il Catania Di Pietro Con Andujar Biraghi Iomber Rollin Darmian Taxidis Gabriel Nostra vecchia Conoscenza E scusate Izco Leto Barrietos Matri Alessandro Matri Dal Milan Che non è affatto Scarso Lamanna Pektovic Ottimo Attaccante Giovane In prospettiva Almiron Masi Barbo Cerci Monzon Catellani Sempre nostra vecchia Conoscenza Sciacca Allegro Taglia Beni Asamoah Ah Giovane Ok Andiamo Per Vincere E convincere Lo spero Vivamente E Giochiamoci un po' Di più Anche se Ben vi ricordate All'andata Abbiamo vinto Sì Ma Il Catania Ci ha fatto Proprio Sudare Con ben 40 tiri In porta Ok In 40 tiri E 20 In porta Beh Parecchio distruttivi Sono stati Insomma Depay Sapara Badu Sapara Depay Manfin Manfin Depay Cross a centro Ah Jonathan Sul portiere Peccato Dovremmo Dovremmo Chiuderla Subito Questa partita Perché non è Fatto Facile Per questo Gioco un po' Più avanzato Non possiamo Correre il rischio Di fare Quella partita Della Depay Manfin Instancabile Manfin Non gioca Quaresma Perché è davvero Distrutto Ma lui vuole Giocare Anche qui Vuole dimostrare Di essere Un campione Che vale 7 milioni E mezzo Sapara 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 Checo Segnale Contro la sua Ex squadra E lo voleva Questo gol Perché mi ha chiesto Di giocare E anche I giornalisti Chiedevano Se Checo Voleva segnare Contro la sua ex E c'è stato Il gol Del mitico Checo Cercato tantissimo Dal Catania Infatti Abbiamo avuto Più di 30 Offerte Dal Catania Sempre la stessa Cifra Secondo me Si era buggato Il gioco Però Però Dai Checo Veramente Tutti i giocatori Che abbiamo preso Tranne Devo essere sincero Caracciolo Mi stanno Piacendo Alla fine Seppia Quando Seppellini Quando ha giocato Diciamo Non ha fatto Grandi cose Però Ci è stato Utile Pedersen Più che altro Oramai Dopo che ho letto Che in Norvegia È soprannominato Il Runei Appunto Norvegese È diventata La bandiera Sto scherzando Comunque Mi fa piacere Aver radocchiato Questo norvegese Questo campioncino Non conoscendolo Minimamente Anche se non ha mai giocato E Quindi nulla Solo un po' di caracciolo Mi pento Poi per il resto Quaresma Segnato Checos Sta segnando In continuazione La difesa Sta facendo cose Assurde Non voglio parlare Prima di finire la partita Però Come finisce Finisce Sta partita Comunque Stiamo facendo Grandi cose Facciamo un po' di cambi Proprio In considerazione O'Brien Mamma mia Pure questo Marco O'Brien Pagato Un milione Sette Dissi Brutte cose Su di lui Dissi che non mi aveva Tanto convinto Che non aveva fatto Cose eccezionali Infatti Mi sono anche lamentato Proprio nel gioco Con lui E dopo Quella chiacchierata Prima di tutto Inizia a giocare A bomba E secondo di tutto Sono iniziato A fioccare Offerte Come se non ci fosse Un domani Pure però Brian Maximo H. Smith Un sacco Un sacco Di offerte Vinciamo anche qui Io Riepilogo Tutto quello Che abbiamo fatto Giochiamo bene Rispetto ai nostri standard 18 tiri 12 in porta 50 Diciamo 49 processo palla 20 falli commessi E guardate qua A 15 punti Dalla seconda E oramai Non voglio dire Che stiamo per A aprire lo spumante Lo champagne Però Stiamo facendo ottime cose Io vado avanti Come se E poi ci vediamo Direttamente Con il ritorno Con il Lille A frappè Giusto per curiosità Ragazzi La spezia Si qualifica Per la coppia Dei Coppa Dei campioni Questo A 7 giornate Se non sbaglio 7 giornate Dalla fine Del campionato Quindi Sarebbe Sarebbe Stata Veramente Una cosa Assurda Fare L'anno Doce L'anno La stagione 2015 2016 Purtroppo Non credo Che lo farò Almeno Di grandi Ripensamenti Però Veramente Grande cose Stiamo facendo Ripeto Ci vediamo con l'Ila Fra poco Due cose Ragazzi Uno Keiko Ci ha chiesto Di essere ceduto Perché Noi ho rinnovato Il contratto Ma più che altro Lui chiede un milione E mi sembra Un po' tantino Considerando che Affelai Guadagna 300 mila euro E due Sapara Vuole restare Fortemente Con noi Tant'è che Mi ha chiesto Di togliere Di togliere Una lista Trasferimenti Secondo Guardate qui Che dice L'allenatore Dell'Ila Che noi Ci batterà Che ci batterà Facilmente E quindi Noi diciamo Questo Bah Considerando che Noi abbiamo vinto 1 a 0 Contro di loro Lo so che non abbiamo fatto Una partita stellare Però mi sembra Un po' Irrispettoso Dire questo E proprio No No Maximo E c'è Si infortuna In un momento In cui non si doveva Infortunare E vabbè Che scocciatura Ste cose Vabbè Faccio un'attima Formazione E ci vediamo A fra poco Fatta La formation E Sempre Un altro po' Di emergenza La buona notizia Che la fellare Si sta Riprendendo Idem per Scaldani Sono stati un po' Diminuti Devo essere sincero A pensare la formazione Però Gomez Smith Borghese O'Brien Zappacosta Batu Vao Gambo Depay Quaresma Jonatas Con Mereles Pronto ad entrare E Sempre la soluzione Mazzotto Madonna Per l'ala E Qui anche l'attacco Ovviamente Eriamo in emergenza Visto che De Scaldani E' infortunato ancora E ho provato a convocare Questo giovane Emanuele Rampioni So che non è Un mostro Però E' meglio di nulla Insomma In caso di emergenza Sarà lui Ad entrare Diamo fiducia Insomma Ok Scegliamo Il numero Di Maia Io gli vorrei dare Il 99 Non è il 59 Il 99 Diamo il 99 Di Ronaldo Al Milan Sennò E Speriamo bene E Romero Lì è basa Bera Sidibe Mavuba Capoe Cotadeo Vabbè Coco Martin Calu Credo che Martin Sia Nuovo rispetto alla Vecchia Formations Non vorrei sbagliare Questa volta Il Lille E' favorito Noi abbiamo Diciamo Un gol di vantaggio In casa però E Forse Questa è la partita Qui non so se ci dobbiamo difendere o meno Perché difenderci e fare catenaccio Può essere sia buono Ma qui A Football Manager Troppo catenaccio Alla fine non ripaga quasi mai Cioè Non ripaga spesso Insomma Però Per il momento proviamo a fare un po' di catenaccio Con contropiede E stiamo indietro Io spero in un gol Veramente Così da fasci Esultare Veramente è una partita Una squadra piuttosta Di quanto Temevo Cioè di quanto Credevo E Non dico che l'ho sottovalutata Perché alla fine Sempre i titolari abbiamo messo O meglio i titolari che potevamo mettere Jonathan Su Assis Di Ricky Quaresma Quaresma Non lo so A me convince sempre Di più E Guardate Avete visto che Assis Che ha fatto per Jonathan E adesso Veramente stiamo A buon punto Due gol Con due gol E Lille Non si qualificherebbe Dovrebbe farne tre Quindi Un gol pesante Però Non Cantiamo ancora vittoria Invece Con due gol E Lille Comunque Non si qualificherebbe Quindi Ottimo Quaresma Giusto per Non è che mi voglio vantare Però Avete visto che L'esperienza di Quaresma Anche qui in Europa Sta fluttando Le prime partite Forse ha giocato male Ma È ovvio Io l'ho schierato Tipo i cinque giorni Dopo In cui è arrivato Quindi Quindi nulla Forse le ho messi Un po' in ansia Ma Preferisco che siano Un po' stressati O in ansia Che Il contrario Insomma Devono Vincerla Punto Cioè Solo questo risultato Giornata Se stanco Adesso Quaresma Cioè O meglio Non stanco Si stanno Picchiando Con le mazze ferrate Tanto guardate Lo stadio Pienissimo Cremito Io credo che anche Solo questo Sia un'emozione Per i nostri giocatori Non forse per tutti Ovviamente Quaresma E' abituato Anche a palcoscenici Un po' più importanti Però Anche perché mi pare Che ha vinto La Champions League Con l'Inter Se non voglio Di scemenze Ma mi pare si Depay Per Bovo Zappacosta Depay Depay sulla destra Cos'è accetto C'è Jonatas Jonatas Mazzotta 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 Entra a posto Di Quaresma E segna Mazzotta In un ruolo inedito Segna Mamma mia Sti ragazzi Comprato A 525 mila euro Dal Crotone Boh Mi stupisco Sempre più Di questi ragazzi Faccio a giocare Lollo E non me Visto che la prossima E contro la Juventus Oramai Ci devono fare 4 gol Per qualificarsi Credo che Che sia un tantinello Difficile Adesso però spero In una vittoria Dello Stade Remy O come si pronuncia Anche se la vedo Dura Diciamo Fra Inter E Chelsea Temo un po' Più il Chelsea Però L'Inter Secondo me In Europa Ha un altro passo Rispetto al campionato Che non mi pare Che stia facendo Affatto bene Gomez La spazza in avanti Martin Sulla sinistra Dovrebbe fischiare L'abito Marco Bryant Sta giocando Veramente Benissimo E ci qualifichiamo Anche alla faccia Dell'allenatore Dell'Hill Che ci aveva dato Per sconfitti E vabbè Fortissimi Punto Basta Non c'è nient'altro Che dire Un po' come questo soldato Che sta ancora Però a 14 gol E Chi passa Lo Stade Remy Che fortuna Ragazzi E Ovviamente Avendo battuto l'Inter Non sarà facile Però Diciamo che Anche in questo Ci sta andando Molto bene Visto che Adesso andremo Eh Ho visto Quindi diciamo Che una finale Con Tottenham O Liverpool Chelsea pure Sta eliminato Giusto Da Liverpool Mamma mia Certo una finale Spezia Liverpool Sarebbe una cosa Bellissima Anche se ripeto Non No Vaukan pure Se infortuna Che miseria Però Che cacchio Si stanno rompendo Come Non nulla Ci vediamo Direttamente Colla No Perché No Si è squalificato Mannaggia Mannaggia Alla miseria Mannaggia Non avremo Né Vaugan E Né Né Bovo E quindi Forse la partita Con lo State O Remy Si Si fa un po' Più tosta Vabbè Ci vediamo Direttamente Con la partita Con la Juventus A propos Fatta la formazione Spero di non pentirmene Perché Ci sono un bel po' Di seconde linee Forse un po' Meno Nel centrocampo Però ragazzi Veramente Guardate qui La condizione Dei vari giocatori Alcuni Devono ancora Riprendersi Da gli infortuni Come La Fellai Ovviamente Sfortuna voluto Che anche Madonna Si infortunasse Per 3 o 4 settimane Ultimamente Siamo un po' Sfigati Però In campionato Sempre facendo Un po' Di corna Stiamo messi Abbastanza bene E quindi Giochiamocela così Con la Juventus Con Gomez Donat San Gioca dopo un bel po' Di tempo Brian Marzolati Mazzotta Lollo Mereles Sapara Keiko Pedersen Che finalmente Può giocare Come Alla destra E Caracciolo Diamo un po' Di fiducia A Caracciolo Non ha mai Quasi giocato Gioanata San 91 Un po' Stanco Le Scaldani Non lo voglio Proprio portare Gli voglio Da un po' Di tempo A Fellai L'ho portato Ma Giusto per Far numero Non sarà Certo lui Un Possibile Insiamo Un giocatore Che gioca Entrante La Juve Ovviamente Si schiera Con i titolarissimi Buffon Finalmente gioca Contro di noi Buffon Dodo Preso dalla Roma Credo O è stato prima Comprato da qualcuno No Proprio Roma 11 milioni Per la comprovetà Me coglioni Chiellini Mustafi Bonucci Marrone Oramai Sempre più Titolare Nietzsche Steiner Pogba Vidali Orente Tevez Quindi Pirlo Mi pare Non mi abbia mai Giocato Contro di noi E insomma Una partita Un po' Così Parecchi assenti E niente Noi siamo già Qualificati Per la Champions Quindi diciamo Che il mio obiettivo Massimo È stato raggiunto Ovviamente Vittoria con lo Scudetto Ci farebbe andare In piazza In mutande A urlare Per lo Spezia E niente Diamo in bocca al lupo Giochiamo con contropiede Sfegatato E speriamo bene Ecco Certo Fare una buona partita Con iper mega Seconde linee Sarebbe ancora più Figo E entusiasmante Ecco Forse Vabbè Mettersen No Mettersen deve giocare lì E Forse per alcuni È un po' ironico Farli giocare Proprio in questa partita Così Tosta Ad esempio Un caracciolo Che non ha mai giocato Farlo giocare contro la Juve Sembra una cattiveria Però Però Ci servono Insomma i giocatori Non possiamo Ce li abbiamo Perché non li facciamo giocare E niente Il cora 0-0 Per fortuna Sarebbe un punto importantissimo Visto che siamo qui A giocare Diciamo Un po' scialli Visto che O meglio Non scialli Col sangue agli occhi Però Con una formazione Un po' rimaneggiata Ecco E Niente La Juve che attacca Con Chiellini Bonucci Pogba Meno male Ci difendiamo bene Caracciolo Tiene palla Speriamo non faccia scemenze Contrao Fa fallo Bravo Caracciolo A prendersi il fallo Comunque è un fallo importante Cioè Mazzotta Ultimamente sta facendo grandi cose Niente Finisce Finisce l'azione subito Vorrei fare un po' di cambi Ma non so chi mettere Ecco Perché guarda Un seppellini A 79 di condizione E Io l'unico Cambio che Cioè L'unico giocatore Che mettere è Rampioni Però Non vorrei di certo Fare un Checo Dove lo posso mettere Ok Facciamo un 4 4-2 Al rombo Insomma E mettiamo Rampioni A posto di Pedersen Sapara Sta pure stanco E Chi ci possiamo mettere O'Brien Può giocare come mediano Marzorati no Borghe Ah Lisuzzo Insomma Proviamo a fare un po' così Non fa niente Lisuzzo un po' gioca come mediano No Mettiamoci O'Brien E Basta Donazzan anche Ma Io non metterei Ne Zappacosta Ne Smith Donazzan Stringi i denti Lo so che da una vita Che non giochi Ma ripeto Stringi i denti Ancora 0-0 No però Ragazzi Non facciamo cemenze Checo Subito Checo Checo Sulla sinistra Checo Cross al centro No tira E segna Anzi segna Buffon Mamma mia ragazzi Mamma mia Se vinciamo con una squadra Dove gioca rampioni E Non lo so Sembra che Un baggato oramai Che lo spezia debba solamente vincere Assurdo 1-0 Con una squadra Con una squadra Rimaneggiata Non segna ancora Caraccio Oramai Non segna più Però Assist di Checo È stato dato L'assist a Checo Io vi faccio sempre vedere Antonio Conte Allenatore Io non cito niente Sto facendo In tutto In live Ovviamente Per quello che posso fare Non sto facendo nulla Su Twitch E lo spezia Oramai Sta lì Con 13 gol Subiti In 32 partite Ragazzi Veramente una difesa Assurda E 47 gol fatti Diciamo Non proprio il top Come attacco Ci sono parecchie squadre Che hanno fatto meglio di noi Spicca la Fiorentina Con ben 73 reti Fa paura Quasi No La media di più di 2 gol a partita Però Comunque ha subito 41 gol Mica pizza e fighi Adesso Andremo a giocare Con la nostra bestia nera Il Napoli E ci vediamo direttamente Appunto contro il Napoli A fra poco Fatta La formazione Anti-Napoli La nostra bestia nera L'unica che In Serie A Ci ha battuto Stavo pensando Anche perché Che può essere Vi chiedete perché Non vi faccio vedere Mentre faccio la formazione Ma perché io ci metto Minimo minimo 5 minuti Ogni volta E Vedere me Che in 5 minuti Faccio la formazione Nel senso che Veramente 5 minuti Sto qui a pensare Se mettete Lollo O Mereles Depai o Afelai Che sto veramente Un casino di tempo Non credo che sia Tanto entusiasmante Ecco perché Vabbè Detto questo Che poteva anche essere ovvio Ma non si sa mai Comunque Come si importa Smith Lisuzzo Borghese Zappacosta Anzi facciamo un cambio così Zappacosta Badu Ecco vedete Un po' la mia minuziosità Zappacosta Badu Lollo Bovo Depai Quaresma Jonatas Non ancora Le Scaldani Preferisco non rischiarlo Adesso Visto che comunque Siamo a buoni punti Col Napoli Non con Napoli Nel senso A buoni punti In classifica Ecco Si schiava con una formazione Quasi inedita Non la vedo molto spesso Con un bel 4-2-3-1 Con Rafael in porta Armero Cannavaro Albiol Fernandez Gargano L'Armedia Alla fine Che ci penso Questa è la formazione Nel Napoli Solo che ultimamente Non la sto vedendo tanto Yarol Molenko Amsic Quadrado Higuain Andiamo Difesa Non male Gargano L'Armendi Yarol Molenko Insomma Un attacco Molto pericoloso Soprattutto col Pipita Yarol Molenko Poi Amsic Che Veramente forte Al gioco E niente Rafael in porta Con consigli In panchina Secondo me Il Sassuolo Prendendo consigli Ha fatto Un affare Assurdo E Considerando che L'ha pagata solo 3 milioni Secondo me Un colpaccio Nella realtà Intendo ovviamente Considerando anche Che sto registrando Questo video Dopo la partita Juventus Sassuolo Sassuolo Juventus Quindi Sono ancora più Impressionato Dalle sue parate Ok Pensiamo adesso Allo nostro Spezia Con Amsic E la colpa Sassuolo Molenko Gomez E sempre Il Pipita Che ci Inchiappetta Realmente il Napoli Neanche a farlo apposta Il Napoli E proprio la nostra Bestia nera Che Ogni volta Poi sempre Il Pipita Ci inchiappetta Per chi Si chiedesse Perché Proprio il Napoli Dico perché Io sono Di Napoli Insomma Ok Una 0 Ancora Per il Napoli E noi Non facciamo niente In effetti Stiamo su contropiede Sarebbe meglio No Ancora il Napoli Con mare chiaro Bovo Quadrato Quadrato Ancora mare chiaro Amsic 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 Sbaglio Ok Meno male Che ha sbagliato Gomez Il Pipita ancora C'è quadrato 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 Palo Meno male Ancora però Yarmolenko Gargano Armero Pablo Ammero Yarmolenko Bravo Bovo Qui ad anticipare De Pai De Pai De Pai Menfin De Pai De Pai Sulla sinistra Non c'è nessuno In mezzo Però sta correndo Jonatas Sta correndo Jonatas No Alla 1 al Bior Quadrato Peccato Sarebbe veramente Una cosa assurda Subire la seconda Sconfitta Proprio contro il Napoli Quadrato Quadrato Sulla destra Sulla destra Passa Gargano Walter C'è Pablito Armero Ora Milan In verità Il Armé Di Fernandez Venduto a 10 milioni Secondo me Era meglio Se lo tenevano E Lollo Ottimo giocatore Però Non è il nuovo A questi falli Di espulsione E infatti Si subirà Una bella multa Si prenderà Una bella multa Nulla Adesso non so che fare Secondo Ma Metterei Metterei Meresfa Giusto per non far Dilagare Il Napoli L'ho capito Che Stiamo in 10 Appunto Ok Niente I nostri giocatori Non ne vogliono sapere Oramai Non vale più Il conto aperto Sembra che Solo in aggressività Lollo Veramente In pochi minuti Si è fatto Prima ammonire E poi di nuovo Ammonire Facendosi Spellere Walter Gagano Quadrato Bravo Smith Qui però Badu Mere Quadrato Sbaglia Sbaglia Ragamolenko E Gomez Ancora infinito Infinito San Paolo Quasi vuoto Strano A meno Per quanto possiamo Vedere Qui Gargano Walter Armero Armero Iar Molenko Bel gol 2-0 E la cosa Ti fa sempre più difficile Per noi Anche se Anche se devo dire Che non mi spaventa Più di tanto La cosa Visto che Ci può stare Io in verità Mi ho aspettato Una sconfitta Contro la Juventus Visto che giocavamo Con Donatzan Lisuzzo Eccetera Anzi Bovo Mereres Badu Mereres Ancora Badu Bovo Mereres Smith 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 Jonathan No Ma che palpebre Sempre Jonathan Che annullano i gol Potremmo Puntare a una Remuntata Ma Solo Napoli Adesso Armero Crossaccio Dentro Palo Meno male Pablito Armero 2-0 2-0 E noi Non stiamo Facendo Tanto Il problema Che i cambi Sono Si possono Contare Sulla punta Delle dita Nel senso Che abbiamo 12 uomini In panchina Ma non so Chi mettere Perché Le partite Sono uno Dietro L'altra Badu Per Zappa Zappa Costa Bovo 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 Depay Depay Per Mereres Raul Badu Depay Manfield Bovo Se è di passaggio Speriamo di non Perderlo A questa palla Mereres Badu Bovo 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 Sulla testa Per Depay Non posso parlare Perché Lui e il Keiko Essendo molto giovani Hanno anche questo fatto Di essere un poco Egoisti E qua il Pipita Fa un cross al bacio Per Quadrato Che però Non ne approfitta Ottantesimo Ottantadunesimo Credo che Una metà partita Sia quasi Agli sgoccioli Unica cosa che Non vorrei Che il Napoli Dilagasse Ecco Pipita Mi sente Pipita Con Quadrato Sulla destra Quadrato E Smith Minchia Sti ragazzi Sono aggressivi Ma qui La seconda espulsione Adesso giochiamo In nove Vabbè Non c'è più nulla Da fare Facciamo contenimento Giusto per non far Di cagare Non possiamo fare Granché ragazzi Mi dispiace State più indietro Ok E Leviamo Bovo E mettiamo Mettiamo No Mettiamo Donazan Sti ragazzi Mere Shbado Mettiamo Depay qua E Amen 2-0 Ripeto Speriamo solamente Che il Napoli Non diraghi Adesso che giochiamo In nove Ovviamente Il centrocampo È 92 92 Hiller Armero Pablito Armero Amsic Gomez Ovviamente Fenomenale Questo Gomez Ma non basta Arriva La seconda sconfitta E campionata Sempre col Napoli E Niente Non posso dire nulla La nostra bestia nera Oramai Però noi siamo Ancora A 14 punti Dalla Fiorentina Niente male Napoli Ci ha un po' Distrutto Spero non moralmente La prossima Contro il Padova Che non ci andremo A vedere Perché se no Veramente faremo Un video di due ore E Voglio vedere un po' Le reazioni E basta Poi Ci vediamo direttamente Con la partita Contro Credo Lo Stedio Remy 2-0 Ci sta brutto Vabbè Ci vediamo fra poco Ragazzi Credo che La partita Contro il Padova L'avevi dovuta far vedere Sia perché È stata spettacolare 3-2 Cobbato E Andrea Bovo Ma poi soprattutto Perché la vittoria Col Padova Ci ha portato a Vincere Lo Scudetto E Boh Non 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 me lo immaginavo Un percorso così Non esulto Non strepito Perché oramai Era quasi Ovvio Anche se Devo dire la verità Con una Con delle squadre Un pelino un po' Più forti Ad esempio In un campionato inglese Con 84 punti Non credo che Avremmo già vinto Il campionato Però Non c'è stata mai Nessuna squadra Ripeto A darci filo Da torcere La Juventus Ha perso Contro Le nostre Riserve Boh Non so che dirvi Ragazzi A questo punto Se avessimo vinto Anche la Coppa Italia Se vincevamo Nella Europa League Facciamo il triplete Ma a parte Gli scherzi Una cosa Ripeto Io lo dico sempre La carriera più bella Che io abbia mai fatto In tutti gli anni In cui gioco A Football Manager Non mi è mai capitato Di fare un percorso così Un po' Grazie ai vostri consigli Al fatto che Sono stato galvanizzato Dai vostri commenti Dai like Dai visual E poi Anche proprio Il fatto di parlare Di raccontarvi Questa storia Mitica Con lo Spezia Mi ha forse portato A fare sempre meglio E forse questo Anche ai ragazzi Intanto vi faccio vedere Le varie immagini Le varie mail Che ci arrivano Ovviamente Richiesta di nuovo contratto Ma purtroppo Mike 94 E Tutti voi Quindi Football Manager Italia Se ne andranno In un'altra squadra L'anno prossimo Con FM 15 Appunto E Ovviamente Spalletti È incredulo Adam Smith Ci loda E Veramente Emozionante Non sembra Per come parlo Ma è anche perché Sono oramai 40 minuti Che registro Ma Bellissimo FMI Football Manager Italia Fra i migliori Di Italia Superiamo Carlo Ancelotti Va bene dai È impossibile Che Carlo Ancelotti È la storia Abbiamo vinto Due serie nazionali In verità Abbiamo vinto Quattro Trofei Quello della serie B La Coppa Italia La Supercoppa Italiana E adesso Lo Scudetto Assurdo ragazzi Veramente Assurdo Superare Ancelotti Dopo due anni Con lo Spezia Manco l'avessimo fatto Con la Juventus Questo campionato E Sì Vabbò Giovinco A rompere le palpebre Beh ragazzi Che c'è Non c'è Niente da dire È Stato Tutto Bellissimo Però Non è ancora finito Il campionato Sì oramai Alle volte Sti cacchi L'ultima partita Possiamo anche perdere tutte Adesso Ci interessa Solo l'Europa League Ovviamente adesso Visto che Andiamo contro State Remy Il nostro obiettivo È la finale Poi Certo Io sogno Una finale Con Liverpool Anche perché Liverpool Ha proprio Un fascino Assurdo Sulla tutti in Europa Poi Le finali Con il Milan Sono sempre state Spettacolari Con il 3 a 3 Che io ancora Non ci dormo La notte Ho ancora Il 2 a 1 Con la doppietta Del super Super Pippo Inzaghi E quindi Nulla Andiamo a vedere direttamente A questo punto La partita Allo state Remy E io credo Che a questo punto Le partite di serie A Ve le salto tutte A meno che Di partite Iper mega galattiche Ma non credo Che ce ne siano più Quindi ci vediamo Direttamente Allo state Remy A frappi A frappi Fatta la formazione E io Più ci penso E più penso Di aver Di che stiamo facendo Una cosa Assurda Questo campionato Questa squadra E io Che mi sono dimenticato Di mettere Un centrocampista Questo Sta anche a significare Coramai L'emozione È tanta E non so Per ripetere Ripeterò Fino all'infinito Che cose del genere Non me sarei proprio Mai aspettate Ovviamente Ripeto Sì lo so Che molti mi direte Che non è realistico Eccetera Però ripeto anche Che io non ci posso Far nulla Ve le ho fatte vedere Quasi tutte le partite E Se non c'è mai stata Una squadra Che Ci potesse Bloccare Io non ci posso Far nulla Se una Juventus Va a perdere Con una squadra Di riserva Io Posso solo dire Siamo veramente forti Punto Basta E comunque ovviamente Posso anche dire Che Il calcio italiano Qui nella mia carriera Non è che stia facendo Grandi cose Perché ovviamente Con un Milan Con un Inter Con una Roma Con una Juventus Ad alti livelli Sarebbe stata Tutta altra cosa Cioè con un Milan Che Sta Per retrocedere Credo che Questo Significhi tutto Cioè con 7 Solamente vittorie E 13 Sconfitte Significa Tante cose Con Comunque Una Lazio Non stia facendo Grandi cose La Roma Che non ha Ripeto Se ci fossero state Squadre un po' Più Forti Sarebbe stata Tutta un'altra cosa E non staremo Qui gridando Al miracolo Ripeto So benissimo Che non è Realistico Ma ripeto Anche che non è Che posso Perdere Apposta Le partite Cioè C'è gente Che vince Apposta Le partite Io perché Le devo Perdere E comunque Niente Con un po' Di emozione Andiamo a giocare Anche questa Semifinale Di Europa League E credo Che oramai Saremo alle ultime Battute Credo le ultime Spero ultime Tre partite Di Europa Mi auguro Che Adesso Lo state Non ci faccia Brutti scherzi Anche se Per aver battuto Un inter Che non è Fortissima Però è sempre L'inter Significa che Poi Scarsa Non è Ovviamente I nostri giocatori Adesso sono Galvanizzati Anche dalla vittoria Dello scudetto E L'interior Sono anch'io Un po' galvanizzato Un po' emozionato Perché Oramai Lo spezzo È diventato Una cosa Importante Una squadra Veramente Dal nulla Perché io Manco Ci ho mai giocato Con lo spezia È la prima volta Che l'ho utilizzata Sia a football manager Che In fifa Non l'ho mai usata Quindi In questi pochi mesi D'aprile È entrata Veramente nel mio cuore Credo che Me la porterò Per tanto Tanto tempo Insieme a Ibagua Depay E eccetera Più che Depay Jonatas Rescaldani Bovo Borghese Badu Anche È stato pure Criticato Per carità Rabbio sarebbe stato Un gran colpo Però Badu È sempre Badu Gol di Jonatas Oramai È scontato Il gol di Jonatas Non giocare Scaldani Più che altro Perché Voglio farlo Un po' Recuperare Speriamo Di far bene E nulla Ci vedremo Tutto Il finale Qui In questo video E poi Ovviamente Saluteremo Lo spezia E doppietta Giovanatas Con assist Di Depay Sto commentando Poco questa partita Ma un po' Per riepilogare Tutte le cose Che abbiamo fatto Con questa Mitica squadra È un po' Perché oramai Non ci sorprende Non mi sorprende Più Una vittoria Soprattutto Con una squadra Comunque Di medio Classifica Insomma Però Non voglio cantare Vittoria Che alla fine Non ha proprio Giocatori scarsi C'ha Uno Iaconan Che non è male Si è comprato Mensa Che è un buon Giocatore svincolato Mi pare L'ho seguito Anch'io Però poi Alla fine Ho preferito Ben altro Quei Mereles Ci ha fatto Grandi cose Eeeh Fa l'omicidia Di Weber Fa l'omicidia Per Giovanatas Ovviamente Nervoso Weber Perché Si trova davanti Un giocatore Come appunto Giovanatas Depay Palo Anche lui Comprata Sette milioni e mezzo Mi avrebbe fatto piacere Vedere Un suo sviluppo Devo dire anche Che Come ve l'ho detto Ma Io credo che L'anno prossimo C'è Con lo spezia in tendo Credo che sarebbe stato Un anno Difficilissimo Perché Ehm Un sacco di giocatori Mi stanno Chiedendo Il rinnovo Del contratto Anche con Comunque Un contratto Che non è in scadenza Eeeh E quindi Credo che Sarebbe stato Molto difficile L'anno prossimo Che Che ne sono Una fellare Che mi ha chiesto Più di un milione Di contratto Borghese Maximovic Badu No Badu no Bobo Checo Che già ho detto Che vuole il rinnovo Quindi Sarebbe stato Un bel po' Ostica La cosa Però credo anche Che I fondi Sarebbero aumentati Dopo Una vittoria Non lo scudetto Insomma C'è ben poco Da Da fare Di trofei Importanti Ci mancherebbe L'Europa League E la Champions E ovviamente Per una squadra italiana Abbiamo fatto Veramente In due anni Cos'è assurde Comunque Non distraiamoci Troppo Perché Sennò qua Poi ci mettiamo A piangere Oppure Rompo le palpebre Visto che Parlo oramai Solamente Di questa Mitica Carriera De pae De pae De pae De pae De pae Matas Ha segnato Ma Seppi e linea Come sto fallo Non mi piace Sto fallo Avremmo potuto Chiudere la partita Visto che Stiamo in 10 contro 9 Qui invece Rischiamo Il gol Della Sermi Che palpebre Non ci voleva Proprio Sto fatto Adesso Andremo In Francia Con un po' Meno Di Sicurezza Forse Si sono un po' Troppo Rilassati I giocatori Quaresma Quaresma Meresh Che palpebre Seppellini Quaresma Gionatas Gionatas Per Zappa 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 Costa Crosso al centro Meresh Meresh Parata di Agassa Peccato Un 3 a 1 Sarebbe stato Tutt'altra cosa Però dai Colpa mia Che mi sono un po' Troppo gasato E un po' Distratto E appena ti distrai Un po' Football manager Ti punisce Sarà aggressivo Forse ho sbagliato Però Non ci sta Non dobbiamo Prendere Gol Eh infatti Un po' Si sono Incazzati I giocatori Vabbè Non fa nulla Basta Vabbè Ci vediamo Direttamente Contro l'altra partita Contro Stade Remi A fa poco Con il Bologna Abbiamo parigiato 4 a 4 E Però ragazzi Ha giocato la primavera Contro il Bologna Giusto per farvi capire Però Si è ugualmente Infortunato Un'altra volta E Bagua E mi dispiace Spero che Si riprenda Facciamo un po' Di scongiuri Stavo dicendo Spero che si riprenda Per la finale Però Facciamo di nuovo Di scongiuri Ecco E Dai ragazzi Ce la possiamo fare Non Giochiamo in standard Quaresma era un po' Scontento Per le parole Che avevo Detto L'altra volta Pure Ehm Gionatas Ovviamente Mi sono scusato Perché se no Non volevo fare Polemiche inutili Ma Soprattutto Scusate Stavo vedendo l'azione Ehm Bovo Smith Smith Resca E che palpebre Con l'annullato Comunque Soprattutto Non volevo Fare Insomma Creare troppi problemi Per quello che ho detto Però io credo Che una critica Al diecista Perché comunque Stedio Remino Nesta grande squadra E all'ultimo Sì Anch'io mi sono un po' Deconcentrato Ma Soprattutto la squadra Che poteva veramente Chiudere il discorso Qualificazione Visto che giocavamo Anche In Undici contro dieci Io anche per quello Me la sono presa Però Qui Lo stedio Remi Basta un gol E si qualificano loro Quindi Era un gol Che era meglio Non subire Insomma Comunque Fellai E che Papp Bre Qui Fa Qualcosa di inutile Giochiamo sullo standard Stiamo un po' indietro Non voglio sbilanciarmi Forse ho sbagliato anche in quella Sbilanciarmi Nella scorsa partita Comunque Depay 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 Bopo A fellai A fellai A fellai A fellai Ancora 0 0 A 0 Un risultato che ci Farrebbe qualificare Però Che ci farebbe sudare Sette camicie Ci farebbe preoccupare E ne è un poco Io vorrei il gol Lo dovremmo cercare Lo stiamo cercando Però Senza troppa fortuna Ok no Contropiede allo sterremi Con Yaconan Oriangue Devo Grande a fellai Bravo che gli anticipo Resca Perché non corri Resca A fellai C'è Depay Eeeh Non riesco a capire Non riesco a capire azione Sinceramente Voglio rivedere Perché non ho visto Se ha segnato di piede O di qualcos'altro A fellai Le scaldani Non si muove A fellai Cosa al centro Ah no Di testa Ok scusate Non l'avevo visto bene Ottimo Ottimo gol Fa piacere Meno male Lo cercavamo Tanto Depay Bobo Peccato Borghese In fuorigioco Ancora Depay Bravo Con i suoi assist Del solito E ottimo A fellai Scusate Alcune volte Mi mancano le parole Ma Commentare E giocare A volte non è semplicissimo Ma soprattutto In queste partite Così Importanti Perché sono quelle partite Semplici Che ti fregano Sempre Nikovic E meno male Che Gomez Qui Affila Ierti Ancora 0-1 Io non ho visto Come è andata a finire L'andata con Tottenham Liverpool Spero sempre Una vittoria Del Liverpool Però Comunque Già arrivare in finale Sarebbe stupendo Con chi è Comunque Entra Mazzotta Giusto per non rischiare Smith Ancora 0-1 Per fortuna Il tempo va Ecco Nikovic Meresh Contro piede Lo Spezia Forse Zappagosta Rescaldani Rescaldani La passata Fellaia 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 Indietro Per Badu Bovo Meresh Sarei di passaggi Per Depay 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 Resca Peccato Agassa Bravo Qui In un tempo A parare Potremmo Diciamo quasi Chiudere la partita Bovo è stanco Ed entra Lollo Baogan Ancora Fortunato Speriamo che si riprenda Più presto Più che altro Nella finale Poi Il campionato Ripeto Sto facendo giocare La primavera Cioè o meglio Solo il Bologna Ho giocato E Azione confusa Gol Dello Sterremi Adesso qui Porca pupazza Dobbiamo starci attenti Dobbiamo subirlo Per forza Dobbiamo Per forza Morire Di infarto 1 a 1 Mazzotta Non mi piace Potevamo gestirla meglio Sinceramente Questa Semifinale Potevamo Giocarci un po' più In modo sicuro Ecco Comunque A Fellai A Fellai Ferma Butta in avanti E finisce qui Per fortuna Com'è Credo che ci sia stato Un piccolo errore Che si era scritto Dallo Spezia Conquista L'Europa Cup Ma Siamo un pochino Inesatto Comunque Siamo in finale Rullo di tamburi Contro Contro Il Liverpool Forse No L'Althottenham Peccato Sarebbe stato ancora meglio Ah no no Il Liverpool Il Liverpool Grandissimo Grande 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 Finale Una Spezia Liverpool Credo che Andremo a vedere Quella E poi Chiudiamo le danze Con Football Manager 14 E con Il nostro Milico Spezia Quindi ci vediamo Direttamente Con la finale A fra pochissimo Fatte le varie partite Diciamo che Arriviamo a questa finale Contro il Liverpool Con non un periodo Positivissimo Ma questo è dovuto Anche al fatto Che in Serie A Abbiamo giocato Con le Primavera O addirittura Vabbè Primavera O riserve E con lo Sterre E comunque Un 1 a 1 È stato un risultato Importantissimo Adesso Stiamo contro Il Liverpool La cosa che più Mi spiace È che Bagua È ancora infortunato E quindi Purtroppo Non potrà giocare Sì abbiamo Perso anche Contro la Sampdoria Ma veramente Giocavamo Con la Primavera A parte Perin Che ha fatto una partita Davvero Pietosa Però Gomez Importa Smith Maximo Borghese Mazzotta Badu Merec Bobo Depaia Fellai Ed Scaldani In panchina In panchina Perino Brian Scarlato Giovane Da Primavera Ma purtroppo Come i Tersini Non abbiamo nessuno Se non lui E Che può giocare Fortuna Su entrambi lati Va Gan Lollo Quaresma Gioanathas Ma Gioanathas Titolare Vai Sì Non ho messo Né Quaresma Né appunto Adesso Rescaldani Perché Mi sento Di far così Perché Gioanathas Ha fatto Cose Assurde In questo anno Rescaldani Ultimamente Non ha fatto Grandi cose E quindi Mi affido Al suo colpo Di testa Pregando E Ok Decimo minuto Zero a zero Spero di non morire Di infarto Qui ora Adesso Durante il video Dopo Più di due ore Che sto Giocando E registrando Ma Questo lo devo fare Cioè lo voglio fare Perché volevo Finire questo campionato Assolutamente Che è finito In modo Che non mi aspettavo Proprio Sinceramente Con una gran vittoria Dello scudetto Però Qui dobbiamo Starci attenti Perché la finale Bravo Bovo Così mi piace Spaziamo tutto Però Direi anche Forse Non giocare Troppo A catenaccio Perché Siamo qui Ci inchiappettano Come cinghiali Merelesh Merelesh Non mi espelle Merelesh Che sanno qua Ok Non l'ha nemmeno Ammonito Bravo L'albitro Milner Indietro per Hager Indietro per Rose Indietro per Munyain Indietro per Milner Indietro per Rose Munyain ancora Matuidi Badegi Milner Matuidi Milner Madegi Sede di passaggi Munyain Per Borini Borini Grande Gomez Abbastanza facile però Come parata Ancora 0 a 0 Per fortuna E però ancora Liverpool che attacca Milner Munyain 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 Mamma mia Che palo Ancora 0 a 0 Milner Milner Spazza però qui Dovremmo iniziare A giocarcela Perché se no Non possiamo fare 90 minuti In cui io Muoio Qui adesso Non possiamo solo Subire Cerchiamo anche un po' Di attaccare Vi prego ragazzi Vi prego ragazzi Ancora 0 a 0 Per fortuna Sempre La fellai Si fa male Procede Vai Cross al centro Maximo Icpalo Eh Siamo pari Al numero di pali Eh Siamo pari Al numero di pali Maximovic Smith Peccato Pensavo qualcosa di interessante La fellai Si è fatto male Nel caso è pronto Quaresma A sostituirlo Stiamo facendo bene Sì però Continuate così ragazzi Non vi distraete La fellai un po' Si riprende Per fortuna Agger Pensavo Questo qui Che era l'albito Pensavo fosse il portiere A uscire Cotigno Cross al centro Bravo Maximovic C'è Maximovic Che corre Intanto c'è una trombetta Qui fuori Ma non è per me Ma Jonatas Jonatas Perché 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 Reina Non potevi rimanere a Napoli Perché Ancora 0 a 0 E qui Però La fellai Ancora Infortunato Mi pare che addirittura Stiamo unito Dai ragazzi Vi prego Sostituiamo Oh pure Jonatas Porca miseria Mettiamo Quaresma Vediamo se Jonatas Veramente Infortunato Oppure O conferma Ah no Jonatas È proprio Infortunato E quindi Ci tocca Mettere Un giocatore E basta Oh Ho messo Le scaldani Dai Settantunesimo Ancora Di grande sofferenza Gomez Perché la spazi Ti odio Borghese Mazzotta Quaresma Non fa scemenze Quaresma Numero 10 Bobo Passa da colui Passa da Quaresma No ancora Bobo Crossa al centro Le scaldani Le scaldani Perché 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 Dio Mi fai questo Mi vuoi far morire adesso Di infarto Ancora palo Per le scaldani Io sto morendo Di infarto Dai ragazzi Vi prego Sei stati veramente Assurdi Continuate così Vi prego L'ho detto 86.000 volte Vi prego Smith si è stancato E stavo pensando Di cambiarlo Però poi Ho pensato che Il suo sostituto È un 15N Non vorrei far Pazzie Però Bobo No 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 Non indietro Bobo lo vorrei far Perché capitano In generale Vorrei mettere Vaugan Diciamo che Se lo merita E Poi diciamo anche Può essere un buon rigorista Facciamoci una grande Inattata Ancora 0-0 Per fortuna Ragazzi Siete stati Mitici Fino alla fine Fino alla fine Come deve Andare Andare Ragazzi Stava una finale Emozionante Fino all'ultimo No Però non mi fate Rimangere quello Che ho detto Ragazzi Non fate Fagola Al Liverpool E mi ammazzo Quaresma Che gran velocità Quaresma Resca Perché Perché tirate Da là Perché Ancora Palo Però era scontato De Pai Cross al centro Dai qualcuno Dai qualcuno Ancora Le Scaldani 0-0 Ancora Comperò uno Spezia Che si è fatto Avanti Fino alla fine Che ci ha creduto Fino alla fine E adesso Cacci di rigore Io Muoio Cacci di rigore Finale Europa League Non si Non si può Non si può Mamma mia Ok Uno Due Avviamo Vai ragazzi Dai che ce la possiamo fare Uh Si muore adesso Si muore Chi è il primo a battere Credo che saremo noi Chi è questo Dovrebbe essere Gomez Infatti Il primo è Borini Il primo è Borini L'ansia Borini Gomez Borini Gomez Borini Gomez Sfida fra Borini e Gomez Borini dai Facci un favore Sei italiano Dai Grandissimo 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 Io ti voglio bene Resca Non sbagliare Dai Dai Resca Aldani Borini C'ha dato il favore Però adesso pure Milner Per poco Per poco Gomez No da parava Non ci esaltiamo Però dai ragazzi Vi prego Depay Non sbagliare Grande Grande Depay Grande Depay Starridge Gomez Starridge Gomez Gomez Ti prego Ti prego Gomez Eh scusate Starridge Adesso chi è Già mi sono dimenticato Chi è Quaresma Non sbagliare Chi Ti ho dato fiducia Quaresma Ti ho dato Perché te l'ho data La fiducia Quaresma Perché te l'ho data La fiducia Arger Gomez Ti prego Arger No Non possiamo Sbagliare adesso Non possiamo Sbagliare adesso Mereles Mereles Meno male Mereles Meno male Adesso Gomez Contro Coutinho Fai il miracolo Gomez Grandissimo Coutinho Che la spara centrale Adesso che Vaugan Vaugan Ti prego Ti prego Vaugan Perché 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 Mi vuoi morto Gomez Gomez Badeci Segna Adesso Chi è a noi Mazzotta Ti prego Mazzotta Ti prego Mazzotta Mamma mia Sto morendo Perché Vaugan Hai sbagliato il rigore Ti odio A vita Matuidi Matuidi Mamma mia Come Ora chi c'è Ora è la casuale Mi pare Ora è la casuale Chi è Maxi Ti prego Maxi Ti prego Maxi Mamma mia Vinciamo pure la finale Vinciamo l'Europa League A sette rigore A sette rigori Dalla fine Io sto morendo Non c'è Ma ce l'ho più Mamma mia Maximo Ci regala il sogno Ci regala il sogno Anche della finale D'Europa League Speravo Grandissimi 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 Incredibile Vinciamo pure l'Europa League Non ci sono più parole La lotteria di rigori Veramente A volte è beffarda Spezia Sono tre Non il triplete Però abbiamo vinto La Supercoppa Italiana La Serie A E l'Europa Cup Incredibile Ragazzi Io Non ci credo ancora Antonio Soda Chi è Antonio Soda? Della Bibonese E oggi i miracoli Spezia ha conquistato L'Europa Cup Però ragazzi Mi ha pure giocato Abbastanza bene 41 per Possesso palla 18 tiri su 15 Mica pizza E fighi Andiamoci a fare La Conferenza stampa Mamma mia ragazzi Scusate Sto rispondendo Sto mettendo tutto avanti Perché voglio andare veloce Sommetto L'Europa Cup Soldato Ovviamente La sorpresa più grande È stato chi Il Diffel Dunge E Miglior Assess Il Malmo Beh In teoria La sorpresa più grande È stata Un attimino Spezia Che ha vinto Io credo Che non ci sia Modo Migliore Per chiudere Questa Serie Questo Campionato Questa Nostra Mitica Avventura Con La vittoria Dello Scudetto Ma soprattutto Con questa Partita Io Non potevo Accurarmi Finale Migliore Davvero Ragazzi È stato Bellissimo Ma non è che Stiamo morendo Stiamo solo Passando a Football Manager 15 È solo che Vorrei ringraziare Tutti voi Per i commenti Like Tutte le visual E addirittura Il terzo episodio Ha raggiunto Uno dei miei record Un bel po' Di visualizzazione Mi fa Davvero Tanto piacere Spero Che le cose Continueranno Così Che aumenteremo Sempre più E cresceremo Sempre più Lo spero Anche con Football Manager 15 Ripeto Non so come Ringraziarvi A tutti voi A chi mi segue A chi mi ha seguito E alcune volte Si è perso Per strada Anche perché Posso Immaginare Che Seguire tutti i video A volte È dura E niente Basta Fine Finito Nel modo migliore E Non c'è nient'altro Da dire Se non congratularci Con la nostra squadra Che salvare In diretta Perché Difficilmente Ci rigiocherò Ma solo per un motivo Perché È bello Aver questo ricordo Di questo spezia Vincitore di Serie A Vincitore di Europa League Vincitore di Coppa Italia Nell'anno scorso Vincitore di Serie B Quindi Primo mostro Anche in Serie B Non c'è Nient'altro Da dire Se non che Abbiamo fatto Tutto questo Con soli 15 milioni Quindi No vabbè Forse un po' più Di 15 milioni Considerando L'acquisto Di Depay Però Credo che Un'impresa Del genere Sia Difficile Da ripetere E Il video di ieri Non lo anticipo Perché non l'ho ancora Fatto Però voi L'avrete già visto In poche parole Decideremo cosa fare Con Football Manager 15 Ma io credo che Per i prossimi Settimane Il mio pensiero Il mio cuore Sarà sempre Per questa squadra Come sempre Per chi è arrivato Fino adesso Per il video Mi rendo conto Che è un video lungo Credo che sia Più di un'ora Però Ragazzi Dovevo farlo Volevo farlo E dovevo farlo Per finire Il campionato Per iniziare Al meglio Quanti episodi Abbiamo fatto Tutto ciò Smetto di parlare Che se no Mi ammazza La gola Esce dal mio corpo E mi spara E basta Niente di più Niente di meno Che Questo Di nuovo Grazie per tutto Vi invito Questa volta A bomba A condividere Questo video E il prossimo Spero che sarà Direttamente Su Football Manager 15 Spero che non ci siano Cattive sorprese E niente Salutiamo Questo mitico Spezia Nulla più Questo Spezia Vincitore Niente Come sempre Vi invito A condividere Il video Iscrivetevi Se non siete iscritti Mettete un bel like Qua credo Che me lo merito Più che altro Se la merita La mia gola E il nostro Mitico Spezia Mettete un bel like Commentate A bomba E soprattutto Nel video precedente Dove vi chiederò Che squadra Che squadra Utilizzare Niente di più Niente di meno Vi ringrazio Di nuovo Per tutto Ringrazio Tutto lo Spezia E' finita Di nuovo Grazie Un saluto Da Mike94 Ovviamente Da Football Manager Italia E ovviamente Dal nostro Mitico Mitico Mitico